Allora, la parte delle soprano e delle contralto, che è all'unisono, soprano e contralto, di questo piccolo, quanto intrigante Requiem di Puccini. Mi se vuol dire che è bello, però è intrigante. C'è tutta questa parte del co, della... dell'organo che arriva alla fine. Tutti hanno l'isono piano. Grazie a tutti. 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 Più o meno. Questa è così. Vediamo com'è.